Con l'accordo firmato a Roma per la riconversione del petrolchimico Gela comincia una nuova pagina della sua storia mettendosi alle spalle anni di inquinamento ambientale e danni alla salute dei cittadini lo dice il presidente della regione siciliana Rosario Crocetta Per il presidente della regione è il più grande progetto verde in Italia con questo accordo non solo garantiamo i livelli occupazionali ma si fa in modo che Gela riacquisti quelle sue vocazioni perse a causa di una industrializzazione che ha impedito lo sviluppo di settori come l'agricoltura ed il turismo Grazie alla nostra battaglia siamo riusciti a revocare, dice il presidente della regione i licenziamenti e la chiusura garantendo lo sviluppo del territorio e saranno realizzati impianti per la produzione di biocarburante e per la lavorazione della plastica attraverso sostanze naturali Per alcune produzioni inoltre abbiamo chiesto ed ottenuto l'utilizzo dell'ente di sviluppo agricolo e dei lavoratori forestali Rosario Crocetta sottolinea che sono stati già stanziati 200 milioni di euro per le bonifiche e lo smantellamento dell'ex impianto ISAB le aree che non rientreranno nel progetto saranno messe a disposizione per altri eventuali investitori Ho ottenuto, dice ancora Crocetta, l'inserimento di Gela all'interno delle cosiddette aree di crisi complessa Ciò renderà possibile la realizzazione di accordi di programma quadro con investitori e la decontribuzione degli investimenti Sono previste ancora misure per la riqualificazione urbana e per la produzione di energia fotovoltaica per favorire lo sviluppo dell'agricoltura L'intesa prevede la costituzione di due tavoli di lavoro, uno per l'occupazione e l'altro per la verifica dell'accordo Entro due mesi sarà attivato un ulteriore tavolo con il Ministero del Lavoro per attivare le misure di sostegno al reddito In quest'ambito, ha detto ancora Crocetta, si inserisce anche la realizzazione a Gela del più grande centro di formazione al mondo dell'ENI In collaborazione con le università siciliane, saranno attivati i master e corsi di qualificazione nel campo dell'economia verde